Un occhio al mercato e le attenzioni al campionato. Il doppio binario è quello che stanno percorrendo le formazioni pugliesi di Serie C, attive quanto basta per rinforzare o puntellare le attuali rose, ma al tempo stesso concentrate sull'ormai imminente ripresa del campionato. Domenica è tempo di sfide decisive in chiave promozione per il Lecce, che ospita il Catania con la possibilità, in caso di vittoria, di chiudere in maniera virtuale il discorso per il primo posto. Salentini che ritrovano il difensore legittimo, tornato in giallo-rosso dopo l'esperienza Trapani, dove invece è approdato in questo scambio di mercato Drudi. Legittimo potrebbe debuttare proprio Domenica in quella che viene definita una sfida di fuoco contro il Catania. All'andata il 3-0 dei siciliani provocò le dimissioni di Roberto Rizzo e l'arrivo di Liverani. Da quella gara il Lecce ha cambiato passo e allungato in testa la classifica proprio sugli etnei che potrebbero essere definitivamente tagliati fuori in caso di successo. Un volto nuovo potrebbe metterlo in campo anche la Virtus Francavilla contro il Fondi. I Messapici nella serata di mercoledì hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore centrale Sbampato, mentre potrebbero chiudere con il Biceglie per la cessione dell'attaccante Aina. I tre volti nuovi della Fidelisandria, Taurino, Scalera e Lobosco hanno ottime chance di essere titolari domenica sera nella trasferta di Caserta, anche per le indisponibilità di Nadarevic e Colella. La società biancazzurra però vorrebbe chiudere il cerchio per un centrocampista e in questo caso si fa il nome di Lorenzo Longo dell'Aclagas. Dalla società siciliana potrebbe arrivare, ma questa volta a Monopoli, l'attaccante Salvemini, così come è a buon punto la trattativa per il difensore argentino Barrios. Intanto è stato risolto il contratto con l'attaccante Paolucci. Chi almeno per un'altra settimana potrà pensare solo al mercato è il Biceglie che domenica osserverà il turno di riposo. La società Nerazzurra ufficializza il giovane centrocampista albanese Likashu che giocherà con la Berretti mentre prova a portare alla corte di Zavettieri l'attaccante Foggia del Teramo.